Forse, ma fino a censimento, fatto, resta il dubbio, sono diminuiti, ma non sono scomparsi, anche se la sensazione per molti è quella. Certo è che alcuni formicai della riserva naturale Boschi del Giovetto di Paline a Borno, che ospitano la formica rufa, non sono più in quei punti in cui i visitatori abituali erano soliti vederli. L'esempio più lampante è quello dell'area dell'anfiteatro, oltre il lapasso in territorio di Azzone. Era una zona molto ricca, veniva anche utilizzata spesso dalle scolaresche. Lì in effetti c'è stato proprio un calo drastico del numero di formicai, tanto da essere quasi scomparsi. Quest'anno però, dopo quest'estate, abbiamo notato la presenza adesso comunque ancora di alcuni formicai vitali che sembrano in ripresa. Bisogna tener conto che ci sono delle normali fluttuazioni, che le formiche cercano il sole e gli alberi, preferibilmente abiti rossi, che le proteggano. Va da sé che se il bosco si chiude per la rufa non è più favorevole. Così succede anche nel caso di boschi sfruttati per anni o dove si registrano cambiamenti drastici come ad esempio i tagli a raso. Bisogna tener conto che i formicai fanno parte del bosco, le formiche sono un elemento molto importante dell'ecosistema. Il bosco matura, si evolve, cambia, quindi anche le condizioni in cui vivono i formicai cambiano. Per cui anche le formiche si spostano alle volte, spostano la loro abitazione in punti per loro più convenienti. Se da una parte ci sono case chiaramente abbandonate dall'altra, ne sono state costruite di nuove, anche più esemplari, nel giro di pochi centimetri. È nuovo ad esempio il formicaio all'ingresso della riserva, forse figlio di un vecchio trapianto. Ed è al sole elemento essenziale per mettere in moto fino a mezzo milione di formiche, che lavorano ininterrottamente su precise direttrici. Sono loro, anche se indirettamente, a dirci che il bosco è in buona salute. Con la sua carica molto forte di acido formico, tutte le formiche producono acido formico, prende il nome proprio dalle formiche, ma la rufa ne produce in quantità particolarmente rilevante. E quindi contribuisce, aiuta la formica a immobilizzare le proprie prede, che possono essere anche molto più grosse di lei. E quindi anche poi, magari più individui uniti, a seconda delle dimensioni della preda, riescono ad avere la meglio su molti insetti. Così, così facendo, la formica tiene a bada le eventuali pullulazioni di insetti potenzialmente dannosi per il bosco. Usata in passato come strumento per la lotta biologica alla processionaria del pino, la formica rufa è partita da questi boschi per raggiungerne altri anche all'estero, perché lei, fortissima predatrice, ha un ruolo fondamentale nel bosco e continua ad averlo nel parco gestito dall'Ersa Falconfine tra Borno e la Valle di Scalve, dove, dopo quelli del 1993 e del 2005, si aspetta un nuovo censimento.